Il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza ha ricevuto oggi all'acqua i militari della stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso e della sezione aerea di Pescara che per primi prestarono soccorso nella tragedia di Rigopiano. Ieri il ricordo di quella tragedia, oggi la finanza ha voluto ancora una volta ringraziare i suoi eroi. Il generale Germano Caramignoli in questo modo ha voluto ringraziare personalmente i militari che arrivarono per primi il 18 gennaio del 2017 a Rigopiano per soccorrere le persone travolte dalla Slavina. Ha voluto elogiare innanzitutto lo straordinario impegno e lodevole comportamento dei militari del soccorso alpino di Roccaraso i quali dimostrando grande coraggio e tante competenze tecnico-professionale riuscirono a piedi a raggiungere l'albergo franato sotto la valanga e dopo un'attenta perlustrazione dell'intero perimetro della struttura a trovare un varco per accedere all'interno. Il contributo dei finanzieri è stato fondamentale anche per fornire in tempo reale preziose indicazioni alle autorità nel frattempo allertate per l'organizzazione più efficace delle ricerche e dei soccorsi. Il comandante regionale ha sottolineato anche il prezioso intervento fornito da parte della componente aerea del corpo in servizio alla sede di Pescara che nonostante le condizioni meteorologiche avverse ha continuato ad operare anche dopo. Noi abbiamo la fortuna di disporre di due componenti quella del soccorso alpino e quella della componente aerea. I passi avanti che sono stati fatti negli ultimi tempi nell'organizzare il dispositivo di soccorso comprende anche l'azione congiunta di queste due componenti fondamentali. Proprio anche partendo dagli eventi di Rigopiano abbiamo maturato la consapevolezza che fa reinteragire in modo immediato e sinergico sia la componente aerea che è quella del salve che costituisce un fattore fondamentale di successo nel portare a compimento operazioni di salvataggio della vita umana.